ragazzi fiamme in chat per salmo spaccato spaccato tutto bravissimo pazzo ha dato un botto di energia al festival come pre chiusura perché adesso ci sono le due le due bombe santeria di nuovo in live c'è marra e santeria ma abbiamo un'ultima chicca vogliamo introdurre l'ultimo ospite forse il più grande dei grandi rapper italiani best rapper alive introduciamo nel salve buonasera no 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 perché da napoli a milano no no sono sono un po stanco perché sto qua da oggi mi sono visto quasi tutti i concetti sono gli altri e basta appena mangiato sono in fase digestiva che è stanco cioè io dopo mangiato bisogno di stendermi capito questo è il lavoro estremo si guardare gli altri ti è piaciuto il festival bello molto bello veramente bene anche a napoli oggi si è qua a scroccare lo vogliamo dire davanti a tutti sono qua a scroccare oggi è scroccare la cena i drink l'ingresso il taxi il taxi il taxi al ritorno il taxi abusivo e no bello molto emozionante tutta questa gente per per il rap per l'hip hop stato bellissimo vedere tutti gli artisti suonare esibirsi dare il meglio di loro stessi sono molto contento veramente senti avevo prima la domanda che volevo farò mi hanno interrotto mi dici letto di spine letto d'amore o letto di morte tra salmo marrakesh e due pechini è tipo quella il gioco che si fa chi metti da giovane da giù perché non lo nevano questo quesito da un sacco di tempo come era il letto di spine letto d'amore o letto di morte no vi sembra un po no a me piace questa domanda a cambio tante cose non mi piacciono come quando mi puntano il coltello alla gola però lo faccio ancora parla di quello che è successo prima tra me e te lo so basta mamma mia non è vero io non alla violenza mai mi raccomando mi stai ignorando la domanda sì non mi piace già fa una domanda ma che è questa avevo meglio milano napoli la artistica a livello di ispirazione a livello umano napoli a livello lavorativo milano a livello di costo della vita napoli a livello di qualità della vita napoli che sono venuto a far milano a fottere no no ma che sto queste parolacce hai ragione sì no a scroccare gli ingressi gratis ai festival il fatto è che napoli costa veramente poco il mangiare è così è così buono stai lì che fai è ovvio che la gente sta aumentando anche a napoli sta arrivando la gentrification adesso napoli in strada dopo lo scudetto ci facciamo i meriti prendiamo i meriti a nello che ha vinto lo scudetto grazie come l'avezzi che le no fai vedere le foto e poi non parlare siamo qui anche a ricordare che questo non è l'unico marra che donne ma ci sarà il marra che donne di napoli il 30 settembre si ho detto bene sempre in diretta su questo canale per cui non mancate perché stessi identico festival a tanti altri artisti sentito cosa c'è cosa ridiche perché ma il ritmo mi piace il ritmo mannaggia vabbè mi fa ridere che escono i nomi dei rapper dietro a me aspetta ogni tanto no mo sono amazon music prima ero shiva aspetta vediamo vediamo eh dobbiamo aspettare troppo vabbè aspettiamo aspettiamo non so se giova la live sempre il ritmo questo fantastico e a te chi ti è piaciuto di più? a me è piaciuto tanto Fabri Fibre grande è bello e Salmo emozionato Fibre è stato emozionante vabbè ma è stato problema stiamo parlando comunque di giganti che hanno cavalcato palchi per tutta la vita perché ti incazzi? non mi sto incazzando bro sto spittando i fatti tu devi stare zitto quando parli scusa devi stare zitto ed ascoltarmi scusa Fabri Fibre, Salmo comunque sono persone che hanno che sono stati sul palco per tutta per trent'anni ma amica sono così vecchi sono sessant'anni che cavalcano questi maritetti fottuti palchi quindi lo sanno fare grande grande cosa ho detto una cosa sono onesta ma smettila di guardarmi in sta maniera un applauso vieni mo sono Milano io Milano 23 settembre oh marra che mannaggia mannaggia grazie marra ah marra più gue il palco è straspento tra l'altro col fumo in hype lo so che la gente vuole marra che poi sono venuto qua la maggior parte me lo sono visto dalla televisione dentro a camera anch'io vabbè noi che dobbiamo fare non è che ma che c'hai nelle cuffiette? te che parli veramente scusa non mi senti senza no mi piace sentirti con le cuffie ok 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 Miles Miles hai fatto un bel DJ set pure Kiddi Ugi non ha fatto DJ set ha fatto una bella performance posso dire che così tante ore e così tanti artisti diversi anche se fossi stata a casa guardando pu pu mi lavo scusami comunque nel comunque nel posso fare no sono contento perché è venuto fuori un bellissimo festival siamo qua è quasi in 20.000 ci sono 80.000 persone là fuori ad ascoltare il festival nonostante la pioggia il fango è una bellissima cosa ragazzi è un bel traguardo per la musica italiana per il rap italiano sì è vero hai capito? mi piace il ritmo sembra sembra una puntata di The Office ma tu non ci sei mai stato? no dove? The Office no ma 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 sei mai stato a Cammarota sì sprizzone bellissimo mi manca mi manca ma tanto ci vediamo a Napoli io non ci sto metaforicamente se mi spiegano il treno mi sa che il proprietario di Cammarota mi odia perché? per quella cosa in live Rista? no non mi ricordo eh che fai? sento delle voci fuori eh bene stanno affettando Andele quasi sì 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 il giorno di oggi uh intanto la situazione palco non ci stanno avvisando di niente no ragazzi possiamo andare avanti eh quanto cazzo ci pare allora Nello quando farei anche tu il Nello Gheddon? un paio di settimane spiegaci il tuo Nello Gheddon perfetto la tua utopia eh come questo come questo? come questo? che questo? facciamo la stessa cosa ma il Rageddon lo chiamiamo Nello Gheddon eh e lo facciamo in un posto di 80 persone chi c'è come ospite? così lo riempiamo diciamo degli ospiti del Nello Gheddon allora prima come hai detto che ti chiami Rista di Crescenzo al posto di Anna Pepe poi Donato ma tu con Mollica Donato non canta Fai i banini Fai i banini sul parco i 40 minuti poi scende molto bello poi chi metteresti? Bugo Bugo no 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 Battiato Battiato è morto io li confondo sempre Battiato e Battisti eh è la stessa cosa non mi ricordo veramente uno è morto come i Rolling Stones e i Beatles vabbè questo sto scherzando li conosco questo Nello Gheddon dimmi tu arrivi alle 8 e mezza di sera però inizia magari alle 11 di mattina e devi riempirlo quel buco non con la tua allora la prima ora acqua gym ok ma senza acqua qui si predispone una grande piscina poi facciamo ma con le signore o con anche i fan tutti ok acqua gym dalle 11 di mattina dalle 11 a mezzogiorno acqua gym poi si toglie la piscina si toglie la piscina circa 50 mila euro mezzogiorno 13 rosario rosario chiedi rosario rosario ave maria pena di grazia feo l'ora di rosario ok con tutti i fan magari arriva poi un'ora di club del libro ok e quale libro legge e si legge si legge e gomor c'è pure il libro come si chiama il film di Gesù ho scoperto che è estratto da The Passion dalla pipi si legge assurdo dopo il rosario si legge la passione di Cristo che rimaniamo in tema e qua arriviamo all'ora di pranzo quindi poi cosa si fa ora di pranzo si chiama quello lì che fa The Sound of Love che cazzo è? come si chiama quello che fa The Sound of Love? ma che ne so Andrea che cucina? e ora dimmi sei fuori dall'internet Simone oh ma c'è la chat si ma che stanno dicendo? dicono che abbiamo rotto cazzo stanno da quattro ore lo riporteresti in vita c'è la possibilità di riportare in vita due persone si riporteresti in vita Maradona o Berlusconi Maradona brother eh si solo perché sei napoletano ma perché? perché lo mostro è troppo forte ma lo riporti in vita non è detto che giochi a calcio no no basta che vieni a bordo campo fa forza Napoli e vinciamo tutte le partite quindi lo fa per non essere linciato da altri napoletani non ho capito lo fai per non essere preso di mio io preferirei riportare in vita tutti e due comunque perché non è che una capi? allora ti dico riportare ah c'è due opzioni puoi riportare in vita Maradona o guadagnare 30 anni di vita in più 30 anni ma diventi Maradona 30 anni di vita in più quindi arriverei a 55 anni no non puoi dare 30 anni di vita eh vabbò 25 anni di vita troppi schermi guardo mi consumano no no non funziona così no Maradona sempre sempre Maradona? sempre perché sei napoletano no perché io già morì quando già morì non posso aumentare il mio il destino dici il destino allora riporteresti in vita Maradona ma Maradona non è mai esistito nella storia e quindi diventa Diego Armando Maradona il ragazzo comune calcio esatto ma che resta strunzata? o 100 milioni di vecchie lire eh ma è un tale che sono che sono un 50 euro ormai con l'inflazione 100 milioni di vecchie lire dovrebbero essere un allora stanno chiedendo quando arriva Obama mi sa che Obama non arriva eh no mi ha scritto appeso purtroppo è rimasto bloccato nel traffico della Fashion Week ragazzi se vi piace come stiamo filando questo cambio palco per Marra e Gue scrivete 8 in chat se no scrivete 8 comunque famete famete che dì? come cosa? no niente non volevo dire niente bene Nello posso fare pubblicità alla pizzeria di famiglia? certo no mannaggia mannaggia no si sta bene si sta bene qui veramente fuori inizia a fare un po' freschetto io ho messo il giubbino beh quando si arriva a parlare del tempo vuol dire che gli argomenti sono finiti però voi dovete parlare però ma io parlo ma se vuoi parlo quanto vuoi basta che mi dai un tema e io vado devo aspettare fast Nello ti sta piacendo questa Fashion Week milanese? no da quando inizia la Fashion Week mi sono chiuso in casa ma perché? il traffico è un casino ogni cosa no sono uscito ieri per la prima volta e oggi no non mi non mi sento parte della Fashion Week non mi metti un vestitino elegante wow wow che tutto sporco del pane di prima tutto marinosso che mi puliscono le mani addosto ieri stavo davanti alla sfilata di Gucci con le pantofole e la maglia di cicciolina che cos'è? mi guardavano tutti male io dicevo allora la capite o non la capite la moda? posso dire che è tutta una grande stronzata cosa? questa cosa la Fashion Week sì il fatto sai qual è la vera critica che faccio la Fashion Week che c'è stanno persone che si svegliano solamente durante la Fashion Week e si si inventano modaioli non so come definirli sì si inventano pensano di essere personaggi pensano di essere personaggi però secondo me Nello in pigiama che va con il Coca Cola posso chiamarli Coca Cola o Coca Cola potete uno spam di o Coca Cola Nello tra l'altro si è trasferito vicino a noi e ci ha dato un nominio da tutti quanti io sono o tedesca tu sei o tedesca omi com'è? come sono io? eh o è o giullà o giullà o giullà o giullà per i miei precedenti su switch o giullà e tu? Diego chi era? io sono o chiat perché in ogni comitiva no ma no in ogni comitiva napoletana ci deve essere cioè c'è questo soprannome te lo giuro cioè se scendi anche se non c'è una persona c'è questo soprannome in ogni comitiva napoletana è assurdo te lo giuro e tu sei ti sei autodefinito? sì tale? sì ok non ho paura a dirlo perché per me sei una persona Nello grazie grazie mille che dolce che dolce oh 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 ti preoccupa Nello capito? sei un bellissimo ragazzo sì ma bellissimo ma bellissimo qua dentro non mi vedo molto carino non mi piace ma siamo in tv sì siamo in tv tra l'altro questo niente non arrivano più mi sa che il live del Maraghedon è finito oppure quello è il salvaschermo no? che? ma fai vedere la chat la chat si dice ah vogliamo Marra e anche io voglio Marra io mi sento un ostile no io no io voglio Marra e Nello e io? e tu no vabbè ma tu pensa me l'accollo che come nelle più grandi feste il padrone di casa cosa? non è che si sente prova? sulle mani? non siamo non siamo sul palco non siamo sul palco ok non siamo sul palco il padrone di casa arriva sempre per ultimo sì è giusto è giusto io una volta sono stato a un concerto dove l'headliner è arrivato un'ora dopo perché posso dirvi una cosa questa sorta di hype ci sta cioè questa sorta di attesa fa crescere un po' una mega in senso metaforico eiaculazione finale ma che cazzo stai dicendo? io lo sapevo che arrivava una cazzata alla fine eh sì tu stai tu stai io ad esempio mi guardavo quello di Kanye West su Twitch di Kanye West di Travis Scott bro no ha fatto anche Kanye West ma vabbè pensavo tu non ti devi Travis Scott ha fatto anche Kanye West e magari dava un'ora di attesa però tu stavi lì dici ah Twitter hanno detto che Marra esce 35 minuti guardate il tweet di Marra guardate il tweet di Kanye quindi si crea una sorta ah ma arriva non arriva ci sta c'è non c'è è hype bro ma io penso che arriva un'attiva non credo che si crei la cosa ma è hype anche per chi sta là bro e tu capito l'emozione l'hype un po' cala adesso però dici sta arrivando sta arrivando boom cresce soprattutto dopo che Salmo è arrivato ha iniziato a scaricare tutte ste bombe con sti club edit dei suoi pezzi che non ho capito no ma in generale è molto bello che cosa hai detto attesa 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 e boom non posso ridirlo sentonello mi dici un voto napoletano potra mamura aspe sto pensando perché ce ne stanno tanti abbo ogni scarrafone è bella mamma su eeeh e l'altro un altro poi abbiamo tutti quelli tutti detti in italiano ma in napoletano no questo non l'ho detto ma lo posso mi posso bilanciare a boccani sciun e fess si tutte queste franze ma perché mi fanno gli applausi che bello mi sento il bambino a scuola scemo tranquillo rispetto per tutti i bambini a scuola scemo no eh l'ho io il bambino vabbè quindi sto rivivendo quelle emozioni posso chiedere una cosa alla chat raga senza pervi sulla lingua chi è stato il vostro preferito finora degli artisti che si sono esibiti alla chat si ma già l'avete chiesto tanto a voi ma non puoi dire chi è è stato il migliore eh sì faccio questa domanda e tu gli hai chiesto Maradona o l'altro ma sono due morti non si offendono se dici uno o l'altro ma poi ti rispondono tutti con i nomi di tutti rispetto sempre per non voglio Morgan non si è esibito ragazzi ma se si è esibito ma come è bello sta cover ragazzi ma che siamo per iniziare allora è il momento io chiederei cuore in chat per Simone per Nello e per Omia e per Marra ragazzi vi lasciamo